Come sono i genitori nelle altre culture? Per parlarne ho chiamato l'italo-giapponesissima Yoko Yamada! Applauso! Benvenuta! Benvenuta! Mi piacere! Yoko! Ciao! Tu sei di mamma bresciana e papà giapponese. Prevalsa più l'educazione bresciana o quella giapponese? Ma direi che più o meno in ugual misura c'erano entrambe, seppur in modo diverso, perché forse l'educazione giapponese ha più una dimensione sociale, collettiva, anche se poi è venuta un po' meno. Nel senso, capisci che se mi insegni che per aspettare il treno devo fare una fila ordinata in Italia, così come prima di salire bisogna aspettare che le persone scendano, che sembra intuitivo, per una qualche ragione però qui non si fa. E soprattutto, una volta che sei in treno, non si parla altavoce, non si sta al cellulare. Come qui? Quindi se tu mi chiami, io rispondo pianissimo, corro tra un vagone e l'altro, ti dico, ti richiamo appena scendo. Ho capito che lo faccio solo io, però effettivamente mi rendevo conto che cozzava un po' l'insegnamento. Però hai trovato un equilibrio o no? Rimani così in questa dualità. Sì, sì, l'equilibrio c'è abbastanza. Ma anche in casa notavo che c'era una cosa che stonava, perché per esempio quando si mangiava il ramen, il brodo, insomma, la minestra, il ramen, mio padre fa il rumore con la bocca, non il risucchio, come nei cartoni animati. Perché in Giappone è considerato proprio un complimento al cuoco, insomma, è buona educazione. Però qua no, per cui io capivo che a casa c'erano delle cose che si potevano fare, però fuori no. Se tu a casa hai un risucchio pazzesco, e poi fuori educazione. Pensa, mi sono ricordato, mio cugino lo ruba il ramen. No, no, è un'altra cosa. No, questo fa la salta. Ma non gli dare soddisfazione. Non gli devi dare soddisfazione. Terribile, questo è terribile. Non so, ma neanche... Comunque c'erano anche regole diverse, per esempio anche regole che a casa avevamo in modo categorico, come le scarpe. Cioè a casa nostra se entri, devi per forza lasciare... Devi togliere le scarpe. Quindi io tutt'oggi se vado a casa di qualcuno, sono sull'uscio che tentenno, dico entro così, va bene. Corrado lo fa con i pantaloni però. Scusa ma se i pantaloni... Entra a casa delle pezzone. Ti piacerebbe avere una famiglia un giorno e nel caso quale educazione? Quella più bresciana o quella più giapponese? Quale vorresti dare? Allora, mettere al mondo un altro essere umano? No, mai. No, vabbè, ma non voleva aprire una... Non fa stasera, eh! Non è che voleva aprire una proposta. No, allora... Figli, allora... No, nel senso che senso di maternità, zero. Però... No, vabbè. Diciamo che la mia compagna è Vicentina. Viviamo in Veneto. Se sarà una famiglia sarà Veneta. Né giapponese né bresciano. Scusami, però, se ti dovesse... Quale preferisci come... Educazione. Educazione. Quella bresciana... Considera che se ti dovessero intervistare nel pur parler giapponese puoi dire il contrario, però... Ah, pur parler... Vedi come si dice? No, direi che... Come si dice il giapponese? Ma no, l'ho ripetuto con la parola giapponese. Ma tu ti rendi conto tre geni? Ha visto noi? Ah, così il giapponese! Sembrava... Come dice? Sai cosa? Sembrava troppo simile. Ma devo... Ma questo... Ma è un rettello... Tre deficiente! Posso dire una cosa? Io un...